Ragazzi stiamo spiando i lupi della nuova stagione, immaginate se ci portano nella loro tana segreta Ragazzi bentornati in questo nuovissimo video della stagione 6 di Fortnite Oggi siamo qua con Luci in una nuovissima challenge, pazzissima regà Quello che andremo a fare sarà spiare i nuovi lupi della stagione 6 per tutta la partita, per le 24 ore del gioco, avete capito bene? Quello che dovete fare in questo momento è lasciare subito un bel mi piace al video e usare il codice Lollopolla all'interno dello shop Per altre super challenge insieme a Luci Luci intanto un salutone, ma tu hai mai trovato i lupi su Fortnite? Ehm sinceramente si pollo ma non ho mai fatto niente Ok ok ok, io di solito quando ho trovato i lupi non ho mai fatto nulla e me ne sono andato Magari qualcuno l'ha ucciso ma non ho mai visto cosa fanno Anzi penso che nessuno di voi si è messo lì a guardarli per tutta la partita e vedere cosa fanno Se fanno qualcosa di misterioso, magari se vanno a mangiare i polli Non lo so, sarà qualcosa di assurdo quindi like, condivisione, iscrivetevi e usate il codice Lollopolla all'interno dello shop Adesso Luci, io sinceramente non so dove andare a cercare i polli Quello che mi serve però prima di iniziare è un fucile a pompa perché non ce l'ho quindi mi servirebbe Ma chi è che spara? Chi è che spara? C'è il boss? Non ci credo, dov'è? Arrivo, ti salvo io Qui dentro, qui dentro vai, ti salvo io Vai Luci, ti salvo io, guarda qua ti ho salvato la vita Dov'è il mio fucile viola? Ok, va bene, non c'è un fucile viola dice Allora, non ho un fucile a pompa, non ho nulla Andiamo a lootare questa casetta e poi di corsa a cercare i lupi Perché la partita già iniziata, la safe just si sta muovendo Sarà un casino assurdo E tra l'altro ragazzi mi raccomando Fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete un video in cui facciamo scontrare cinghiali e lupi Sarebbe davvero divertente, sarebbe un video super assurdo Fatemi sapere se lo volete qui sotto nei commenti Perché probabilmente lo andremo a fare molto presto Comunque qua potrebbe esserci passato un nemico perché le pietre sono distrutte Va bene Dove, 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 dove? Qui Oh mio dio È bianco, è bianco È un predator, ucciso, ucciso, ucciso il primo Dov'è l'altro? Aspetta, ispezionalo che cerchiamo subito l'altro nemico da far fuori Bravissimo, non lo vedo nei paraggi Non c'è? Neanche io Ah, eccolo lì giù Lì giù, lì giù, lì giù, lo vedi? Va bene, predator, sei stato gentilissimo Adesso ti andrò a uccidere Ma non aveva nulla, cacchio Va bene, andiamo dal prossimo nemico e poi dritti a cercare i lupi, raga Perché vi ricordo che appunto il video è Cerchiamo i lupi Cioè, spiamo i lupi Quindi dobbiamo trovarli i lupi prima o poi Allora, io non so se i lupi spawnano solamente nelle zone rosse Cioè, nella zona dove la mappa è rossa Oppure possono spawnare anche qui dove è normale Non ne ho la minima idea, ma li cercheremo Andremo a cercarli qui nella zona, diciamo, come la chiamiamo? La zona preistorica della mappa La zona selvaggia, vabbè, non so come chiamarla, sinceramente Andremo a cercare i nostri lupetti per spiarli per tutta la partita, raga Perché non vedo l'ora di scoprire se fanno cose assurde Magari, non lo so All'improvviso prendono e ci portano in una zona segreta In una loro tana, non lo so, raga Sarebbe davvero assurdo Magari sono qui sotto che ci sono delle ro... No, qui c'è una cassa, però va bene, ne andiamo a prendere Pollo, ma penso che si attaccano con gli altri animali È vero, potrebbero attaccarsi infatti con gli altri animali, noi non lo sappiamo Ma lo andremo a scoprire in un prossimo video che faremo, sicuramente Faremo una sorta di sfida tra animali, sarà davvero divertentissimo L'unica cosa che dovete fare appunto è lasciare un mi piace se volete questo video Lupi, lupi, vi stiamo cercando Dove cavolo siete che dobbiamo spiarvi per tutta la partita Io ho paura che se ci andiamo troppo vicino alla fine ci attaccano Quindi voglio rimanere un po' lontano Ma non così tanto, cioè così tanto da non vederli è un po' troppo forse Tra l'altro ragazzi, prima di andare dai lupi Vieni qua, Lucci, guarda che cosa ti faccio vedere Qui c'è il bagno di Shrek Io non so adesso se aggiungeranno la skin di Shrek nel gioco Ma sarebbe davvero divertente Comunque dai, non è questo l'obiettivo del video Ma è quello di cercare i lupi Quindi andiamo e li troveremo, dai, ne sono sicuro Di solito qui sotto li trovo sempre Quindi potrebbero esserci Vediamo un po' dalla lontananza Io sono un cinghiale Ah no, è un cinghiale, cacchio Vabbè, avviciniamoci e uccidiamolo Perché per addomesticare i lupi Tu sai che ci servono carni ed ossa Penso, non lo so, una cosa del genere Quindi dovremmo tirare la carne di cinghiale ai lupi Per addomesticare Non ho ben capito come funziona questo season Ok, fatto fuori Certo, non poserò il mio fucile a pompa per perdere la carne Se vuoi la prendi tu Se no i lupi rimarranno così Penso proprio che rimarranno così Dai, andiamo lì a cercare ragazzi Per forza dobbiamo trovarli, eh Ve lo dico Ormai siamo quasi in finale di partita E non li abbiamo ancora trovati Qui sotto potrebbero esserci, eh Facciamo attenzione Andiamo di qua e vediamo un po' se sono qui Sì! Sento un lulare! Ma! Ragazzi ho sentito il verso del lupo fortissimo Oh mio Dio Pollo stai attento Sto molto attento Sto cercando di andare piano piano per trovarli Vieni, vieni intanto Dovrebbero essere proprio qui giù Raga, mamma mia Mi raccomando Lasciate quel bel mi piace sotto questo video Hanno rianimato al camioncino Vieni, 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 luci Avviciniamoci Andiamo a pushare questi cavolo di nemici Vieni qua, vieni qua Ci avviciniamo piano piano Ok Sono dentro un cespuglio E li pushò Headshot morto! Vai! Mamma mia Sono un Robin Hood ragazzi Oh mio Dio 85! Ragazzi Ma con questo arco sono un pazzo assurdissimo Raga, mamma mia Non so se avete visto Non so se avete visto che giocato ho fatto Raga, mamma mia Mamma mia ragazzoni Con questo arco sono un mostro Comunque io avevo sentito il verso del lupo Ma non lo trovo, cacchio Dov'è? Dai, non è possibile ragazzi Che non mi fanno trovare i lupi Pollo, questo boss mi ha dato delle ossa Magari è un segno Magari ci possono essere utili, dai Ah, qua non c'è nulla Qua non c'è assolutamente nulla qui giù Ma io ho sentito ululare Quindi qualcuno deve pure esserci A meno che non era un pollo Che stavo ululando Ma non penso Allora dai, andiamo in safe Li troveremo Non so che dirti Oh, ci stanno sparando Attento, attento Da sopra la montagna Cerca di scappare Cerca di scappare Andiamo verso i lupi Io non so dove si trovano però Questi cacchio di lupi Stiamo finendo il carburante Corri Cacchio ragazzi Ma dove stavano i lupi? Ragazzi, eccoci qua Abbiamo finalmente trovato i lupi Adesso siamo pronti per spiarli Per tutta la partita Allora, ci ha voluto un sacco di tempo Quindi mi raccomando Per l'impegno Dove le lasciate quel bel mi piace Ma soprattutto adesso Dovremmo spiare questi cacchio di lupi Per tutta la partita Pollotteteci un nemico Come un nemico Ma io voglio solo Spiare i miei lupi Uccidiamolo Uccidiamolo Ma Ok, bravissimo Allora, vieni qua Vieni qua Ti dico Avviciniamoci al nemico Senza fare troppo rumore Perché altrimenti i lupi ci attaccano Quindi io farò un piccolo colpo di spassa qui E vieni qua Vieni qua Ragazzi Stiamo spiando i lupi Per tutta la partita E guardate qua Ci stanno attaccando Scappalucci Io sono sulle rocce Non mi prendono Sono un po' Corri sali sulla roccia No, sono caduto Sono caduto Mi stanno attaccando Aiuto Lucci Vabbè Ragazzi Ragazzi Mi sento un attimo Nella fossa dei leoni Stanno spaccando la roccia Per prenderci Scappa Lucci Vieni con me Vieni con me Corri Corri Salso guardare dietro Se tu non li vedi Loro non ti vedono Ok Nascondiamoci qui Nascondiamoci dietro la roccia Ragazzi Stiamo spiando i lupi Per tutta la partita Ma ci stanno attaccando Scappa Via Lucci Via guardali Guardali Guarda come ci attaccano Oh mio dio Dobbiamo fare in modo Che non ci attacchino più Non so come fare Ce l'hai della carne Per caso? No Oh mio dio Ci stanno seguendo Per tutta la partita Ma stanno facendo il contrario Li dovremmo seguire noi Per tutta la partita Oh cacchio Ci stanno attaccando Di brutto Lucci Te lo dico Corriamo via Non lo so Non so che fare Scappa 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 Collo Ho trovato il modo Cosa? Guarda Oh Ha funzionato Ha funzionato Non ci credo Ragazzi Abbiamo trovato il nuovo bug Dei lupi Se ti attaccano i balli Gangnam Style Non ti mangiano Ma è incredibile Questa cosa ragazzi Stanno venendo dritti Verso di me Io gli faccio il loser E non mi mangiano Ma è incredibile Questa cosa Lucci Io gli sto facendo il loser Se smetto di ballare Ecco che mi attaccano Guardali Ragazzi Mi sento circondato Loser E scappano Mamma mia Questa cosa è fantastica Ragazzi Abbiamo scoperto Un segreto assurdo Dei nuovi lupi Che stanno mangiando un albero Vieni qua Lo sai qual è il piano Vieni da me Vieni da me Dobbiamo ucciderne due Dobbiamo ucciderne due Va bene Ok Adesso sono imbufaliti Quest'altro Quello Con poca vita Perfetto Adesso prendi la carne E dalla l'altro Falla mangiare all'altro Vieni guarda Guarda adesso la mangia Adesso la mangia Io mi avvicino E lo domo Guarda Oh si Ce l'abbiamo fatta Adesso il lupo È il nostro amico Ragazzi Non ci voglio credere Questo video Sta prendendo una piega etica Regà ve lo dico Adesso mettiamoci dietro la roccia Lucci Vieni qua Vieni qua Ma che puoi cavalcare Vieni qua Vieni qua Che adesso lo spiamo Per tutta la partita Vediamo se fa qualcosa di strano Fatto sta che questa roba dei lupi È davvero una figata A me piace un sacco Infatti sono gasatissimo Per il prossimo video Che andremo a fare Quello che faremo Scontrare i lupi a cinghiali Perché secondo me Sarà un duello divertente E beh ci sta Ci sta Avviciniamoci Avviciniamoci Vieni lupetto Vieni lupetto Vieni qua Guardiamolo da vicino ragazzi È indemoniato ragazzi È indemoniato proprio È viola Non posso saltarci sopra Ma io sono curioso di sapere Se fa qualcosa di strano Lucci Cioè se tipo io Do una beccona a te Lui ti attacca Oh Ha puntato qualcuno Guarda Sto facendo qualcosa di stranissimo Guarda Seguiamolo Dove va Oh mio dio ragazzi Lo vedo un po' perplesso Che c'è nella roccia lupo Che c'è È cattiva C'è un passaggio segreto Pollo Ma sì Se ci sta indicando Un passaggio segreto Impazzisco Adesso lupetto È arrivato il momento Di andare a vincere Insieme alla partita Sei carico per questa futura vittoria reale Lupo Dimmi se io non ho con la testa Oddio Ha fatto di sì Ma non ci credo Va bene Andiamo che io lo spasso Leggendario E mi servirebbe però Un fucile d'assalto Adesso non so dove trovarlo Ma lo troveremo Lupacchiotto Dove mi porti oggi? Sei carico per questa vittoria Che andremo a fare Dai Ti passo a prendere con la macchina Ma secondo voi ragazzi Se io vado con una macchina Il lupo sale con noi Oppure no? Non penso in realtà che salga Però sarebbe divertente Guardalo Guardalo Ecco che sale sulla macchina Ti prego Dimmi di sì No ragazzi Un sogno è andato in fumo Vieni lui Ci ti porta alla vittoria reale Lupacchiotto Seguici che andiamo Lupacchiotto Seguici che andiamo a fare La nostra vittoria reale Io spero non si perda Sinceramente Perché Lo vedo un po' Lontano e perplesso Ragazzi Ci siamo allontanati un attimo dal lupo È diventato cattivo Ma non ci credo Ma lupo Non ti abbiamo abbandonato O forse sì in realtà Luce ti sta mangiando Luce ti sta mangiando Ok Io lo spio da qua Vediamo cosa fa Nasconditi Ha mangiato l'osso Ha mangiato l'osso Vai Adesso è il momento buono Ha mangiato l'osso Non è collaborativo Questo orso ragazzi Sì questo orso Vabbè ormai Ho aggiunto anche gli orsi Su Fortnite Dobbiamo prendere una macchina E scappare Perché il lupo Non sembra essere amichevole Si sta mangiando i secchi Lupo sei stato un caro amico Ma purtroppo devo prendere Il mio arco d'onda d'urto E non ucciderti Ma spederti in safe Non ce la faccio A mandarlo in safe ragazzi Sta correndo troppo In teoria adesso Ci sta inseguendo Quindi potrebbe arrivare in safe Con noi E vincere la partita Anche da lupo cattivo Tipo Portiamolo dalla rana Lucci Portiamolo dalla rana A vedere se lo mangia Corri È qui giù Andiamo 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 Lupo vieni dalla rana Attacca Se l'attacca ragazzi Sarà il video più amico di sempre Ve lo dico Oh Si stanno combattendo ragazzi Il lupo e la rana Oh mio dio Guardalo 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 come insegue la rana Che figata Guarda Guarda adesso Oh mio dio che figo No adesso quello viene verso di noi Ragazzi ma guardate in cielo C'è una sky base Ma non la vedevo dai tempi Della stagione 1 Allora io proverò a fare una cosa Al momento Io l'ho rotta L'ho rotta anch'io Adesso scendono Ma gladi No no Perché sicuramente hanno qualcosa Per difendersi E infatti vedi che non sono morti Luci cacchio Mi sparano ovunque Mi sparano ovunque Vai Fai diamo Fai diamo Arrivo Atterrato 1 No era Era il lupo questo Ho ucciso il lupo Poverino Non ho più nulla Non ho colpi con pa Non ho colpi con pa Devo prendere colpi con pa E anche lo scar Perfetto Ok Allora Regami devo organizzare l'inventario Io siamo in mezzo del finale De partita Per sbaglio Ho ucciso anche il lupo Non ci credo Curati 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 Vai vai Andiamo a fare queste kill Perché dobbiamo vincere la partita Avendo spiato tutti i lupi Io sto andando più sopra possibile Te lo dico Io sono sopra Sono sopra tutto Sono sopra 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 Non vedo nessuno da qui su però Guarda lì Lo ha schizzato via Sono qui sotto Uno è andato fuori safe tantissimo Pusciamo quello Cioè puntiamo a quello Ok Tato Bianchissimo Vai 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 Che è bianchissimo 29 Senti luci Io faccio la pazzia della vita Addio Oh mio dio L'ho preso L'ho preso Non ci credo 34 di qua Sto sparando Più non posso Oh mio dio No Non ci credo Ma muori Ma guardalo qua Che scarsone questo Dai rega Dove per forza fare al kill Ce la posso fare ragazzi Dove cacchio sono gli ultimi due Scusatemi Ragazzi porterà la vittoria al pollo Non abbiamo portato l'uomo Ci porterà il pollo Polla vieni qui Ti porterà la vittoria Ragazzi non ci credo Se riesco a portare Se sono qui dentro è pazzesco Pollo ma Vedi in alto Sono quelli della skybase Secondo me Ma no Non c'è nessuno in alto Li vedi Io li ho visti Ma Ho preso danno Guarda Bravissimo Putta l'entrata Il pollo Rolla Ma 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 Ragazzi ma cosa sto vedendo Proviamo a farli fuori A questo punto A vincere la partita Rega Ma che fa quello Dai pollo Dai Dai ce la dovrei fare No no Voglio pushare prima l'altro Ce la posso fare Io mi faccio il medikit Sparai Ma perché quello Spara con le pistolette A caso Guardalo Guardalo Ragazzi ce la posso fare 3 2 1 E No non lo voglio dire prima però Guardate cosa faccio Raga Bravissimo Guarda che sorpresina Che gli faccio Sorpresa Vittoria reale Spiando i lupi Mamma mia ragazzi Che dirvi ragazzi Super vittoria reale Spiando i lupi Noi ci vediamo domani Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video Una nuovissima live Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi e condividete questo video Con tutti i vostri amici Grazie mille Lucci Per aver partecipato Mamma mia che vittoria Grazie mille Grazie mille